buona domenica amiche e amici siamo alla diciassettesima domenica del tempo ordinario siamo nel cuore del tempo ordinario siamo nel cuore dell'estate siamo abituati a seguire in queste domeniche il vangelo di marco anno b ma oggi c'è una variante la liturgia ci propone un brano del vangelo di giovanni un brano non casuale è l'inizio del capitolo 6 del vangelo di giovanni il capitolo 6 di giovanni è interamente dedicato a gesù pane di vita gesù che dice dovete mangiare la mia carne io sono il pane della vita sembra veramente un capitolo molto eucaristico il testo dice siamo vicini alla pasqua la festa dei giudei benissimo e questo capitolo del pane di vita inizia con una delle tante narrazioni che troviamo nei vangeli che noi conosciamo bene si tratta appunto di queste moltiplicazioni dei panni e dei pesci ma il brano nel vangelo di giovanni inizia sul monte gesù salì sul monte e la si pose a sedere con i suoi discepoli qui gesù si presenta come il maestro sembra di essere nel vangelo di matteo all'inizio del grande discorso della montagna gesù è il maestro gesù è mosè è il nuovo mosè era vicino appunto la pasqua la festa dei giudei ma questo maestro che è gesù ma che maestro è è un maestro particolare strano è il vero maestro perché il vero maestro gesù alzati gli occhi vide che una grande folla veniva da lui e disse a filippo dove potremmo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare diceva così per metterlo alla prova e infatti sapeva quello che stava per compiere gesù è quel maestro che inizia la sua il suo insegnamento non preoccupandosi di sé della sua prestazione di ciò che lui deve dire del del suo ruolo della sua centralità cioè non mette al centro se stesso ma inizia chiedendo a quelli che stanno con lui ma qui dobbiamo prenderci cura di questa gente pensa a non a sé ma ai bisogni degli altri gesù è proprio così gesù inizia il suo insegnamento perché lui sta insegnando ai discepoli qualcosa che è fondamentale sta insegnando l'identità di dio da cui lui proviene dio è padre dio è amore dio è cura dio è tenerezza è interessante che la domanda che gesù pone a filippo non è casuale nel quarto vangelo dove potremmo comprare il pane dove in realtà nel testo greco noi troviamo la domanda da dove che è la domanda che c'è sempre nel vangelo di giovanni durante le nozze di cana si chiedono da dove proviene questo vino pazzesco e no sovrabbondante buonissimo eccezionale da dove la samaritana chiede a gesù ma da dove tu attingi per avere questa acqua viva che tu dici di di avere no da dove da dove proviene il pane il pane vero è è sempre la domanda che che è sempre riferita a gesù da dove viene gesù che è il vino buono che è l'acqua viva che è il pane che nutre da dove proviene gesù dal cuore dal seno dal grembo del padre è interessante che i discepoli sono scoraggiati sfiduciati secondo loro non è possibile fare del bene a queste persone non è possibile fare qualcosa per loro filippo dice a 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo poi interviene andrea che dice c'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo due pesci ma che cos'è questo per tanta gente no rispose gesù fateli sedere punto c'era molta erba in quel luogo punto dettaglio che sembra trascurabile ma non è così sentiamo cosa dice il salmo più bello che c'è nel libro dei salmi il più famoso il più conosciuto il signore il mio pastore non manco di nulla lo sappiamo a memoria forse tutti questo salmo no abbiamo sentito tanti canti tratti da questo salmo il signore il mio pastore non manco di nulla su pascoli erbosi mi fa riposare su pascoli erbosi mi fa riposare bellissimo gesù dice fateli sedere fate in modo che si riposino dove in quel luogo c'era molta erba su pascoli erbosi gesù è veramente il pastore buono che si prende cura del greggio delle persone degli altri è esattamente come dio proviene da dio proviene dal grembo del padre e vabbè poi sappiamo come va la questa moltiplicazione dei pani no che poi in realtà come abbiamo detto tante volte sembra essere la donazione dei pani la condivisione dei pani gesù prese i pani dopo aver reso grazie li diede a quelli che erano seduti lo stesso fece dei pesci quanto ne volevano cioè gesù li diede dona fa una una donazione una distribuzione benissimo sappiamo come vanno le cose c'è un altro particolare interessantissimo allora la gente visto il segno che egli aveva compiuto diceva questi è davvero il profeta colui che viene nel mondo ma gesù sapendo che venivano a prenderlo per farlo re si ritirò di nuovo sul monte lui da solo sapendo che venivano a prenderlo qui c'è un verbo in greco che se non ricordo male si dice arpazzo che vuol dire rapire vuol dire prendere nel senso di fare una preda catturare è un verbo che indica avidità e violenza è ancora la logica completamente contraddittoria rispetto all'amore di dio e gesù a questa logica dice non ci sto scappo vado in un luogo deserto a pregare con il padre buona domenica 1 1 2 3 1 9 10